La Sandra Abate, in occasione della gara contro la Colormax Pescara, in programma domani alle 20 al Palacercola, invita tutti i tifosi a sostenere la squadra. Il momento non è dei più semplici, considerando che i ragazzi di Batista sono reduci da quattro sconfitte consecutive che hanno fatto scivolare la squadra in classifica in un momento sportivo complicato. Si inverte tendenza soltanto con la coesione e con la forza della nostra gente. Abbiamo bisogno della voce di chi vuole bene alla Sandra Abate. Questo è il messaggio del capitano e simbolo della storica cavalcata in massima serie, Massimo Abate, che spera anche nell'aiuto della gente, perché per uscire da questa crisi in cui la squadra di Batista è incappata da inizio 2020, c'è bisogno veramente di tutti. La speranza è che l'appello venga raccolto e che la Sandra Abate possa tornare al successo anche grazie alla spinta del popolo avellinese. In questa seconda gara consecutiva contro una squadra brussese ci saranno i due acquisti paraguaiani, Francisco Martini a Zivillalba e Damian Galeano.